Guarigioni e di lunghe sopravvivenze di gran lunga più elevata rispetto al passato. Cioè il 70-80% dei tumori del polmone che si operano oggi sono tumori allo stadio iniziale. Il tumore polmonare, come affrontarlo per vincere? Questo è il titolo del convegno che si è tenuto a Sulmona sull'attività divulgativa per la lotta al fumo di tabacco, abitudini alimentari e fattori di rischio ambientali organizzato dall'Associazione Medici Cattolici Italiani della Regione Abruzzo. Purtroppo i fattori di rischio sono in aumento, vuoi per l'attività lavorativa non protetta, vuoi per l'inquinamento atmosferico e in ultimo, lo metto per ultimo, come piaga, l'aumento del fumo di tabacco. I rimedi quali sono? I rimedi sono la prevenzione, prevenzione primaria e cercare di limitare questi fattori che provocano il tumore. La prevenzione secondaria è una diagnosi precoce che permette una terapia abbastanza in fretta in modo da evitare che questo tumore diffonda nell'organismo. Il consiglio che possiamo dare nel merito? Il consiglio è di sottoporsi a una diagnosi precoce i pazienti che sono a rischio e per la popolazione normale limitare i fattori di rischio. Possiamo dire che le cose stanno cambiando. Stanno cambiando nel senso che ci sono sicuramente oggi molte più opportunità terapeutiche. L'associazione per esempio alla chirurgia dei nuovi farmaci biologici, della immunoterapia che permette di migliorare notevolmente i risultati in termini di guarigione. La chirurgia è cambiata molto, è una chirurgia mini-invasiva quindi con minore complicanze, minore mortalità è un ottimo outcome per il paziente. Non c'è dolore, la degenza è breve. E poi ancora l'importanza del coordinamento multidisciplinare con i nuovi gruppi interdisciplinari oncologici che sicuramente migliora anche da un punto di vista organizzativo il percorso diagnostico-terapeutico per questi pazienti. Quindi sostanzialmente oggi possiamo dire che rispetto a dieci anni fa le prospettive di guarigione e di lunga sopravvivenza sono notevolmente migliorate. Le terapie oggi sono rivolte soprattutto alla chirurgia agli stadi meno avanzati. Cioè rispetto al passato si fa una diagnosi molto più precoce grazie al screening che viene fatto e a questi programmi di screening e grazie anche molto alla sensibilizzazione da parte dei stessi pazienti, i medici di base per cui si riesce a fare una diagnosi in uno stadio molto precoce della malattia. Questo comporta che la chirurgia ha dei risultati migliori in termini di guarigione.